Una buonissima serata a tutti voi, ben ritrovati come sempre, grazie per essere qui puntualissimi Alle 19, altrettanto puntualmente vi ricordo anche questa sera il nostro indirizzo di posta Per stare sempre in contatto con la nostra redazione basta semplicemente inviare una mail al nostro indirizzo Angoli, chiocciola, espansionetv.it Bene, iniziamo la serata con un compleanno, 50 anni, un'associazione che veramente ha fatto delle cose meravigliose Ce le racconta lui, Adriano Giudici, ciao Adriano e benvenuto Ciao Dolores e grazie di avermi invitato a essere qua con voi per raccontare Certo, un volto conosciutissimo ma io lo ricordo, tu sei presidente dell'associazione Famiglia Comasca E quante cose straordinarie, se sei d'accordo abbiamo una clip del nostro Tg, la vediamo insieme Partiamo da lì e poi torniamo in studio, vai Torna in funzione il Drago Verde inaugurata questa mattina la fontanella di Piazza Cavour a Como Restituita ai Comaschi dopo un intervento di restauro, iniziato lo scorso mese coordinato dalla docente Bruna Mariani assieme agli studenti dell'Accademia Aldo Galli a spese della famiglia Comasca per festeggiare i 50 anni di fondazione dell'associazione La fontanella, risalente all'inizio del secolo scorso, ha subito un restauro di tipo conservativo per preservarla dal deterioramento Oggi è una bella giornata perché la famiglia Comasca ci fa questo regalo in occasione dei suoi 50 anni perché lo IED l'ha rimesso in splendida forma e perché si restituisce, come dicevo, un pezzettino di storia alla città Spero che la città la rispetti Si inserisce questo restauro in vari restauri che nel tempo sono stati fatti era un po' che eravamo fermi e ci è piaciuto dare questo segnale alla città appunto come ricordo del nostro cinquantesimo compleanno Con gli anni il Drago Verde è diventato un punto di ritrovo per molti comaschi Un punto di scherzo, quando arriva qualcuno da fuori Como che non conosceva la fontana diceva, guarda, ti porto io in un posto veramente, ti porto al bar Drago un posto eccezionale, tra l'altro si beve bene e costa anche poco e lì si portava qua E insomma davvero un modo spiritoso per raccontare questo luogo comunque anche storico possiamo dire perché altro che Adriano, ma quante cose avete fatto? Tantissime? Le cose sono tantissime e ricordarle tutte è anche abbastanza difficile vado così un po' random, il restauro della quadreria del Sant'Anna 246 quadri che erano un po' dispersi sono stati ripulliti, sistemati sempre in collaborazione con l'Accademia Gali con la quale operiamo da tantissimi anni ed è stato restaurato il pulpito della chiesa di Lora è stato restaurato il sottarco ed altro della basilica di Sant'Abbondio a San Fedele degli affreschi sono stati restaurati il vico dei miracoli del crocefisso eccetera eccetera tra l'altro voglio farlo subito perché so che tu ci tieni molto vuoi ricordare sin dall'inizio le figure dei presidenti certo e uno in particolare perché ci tieni sì io sono il settimo presidente e ovviamente essendo il settimo ce ne sono stati sei prima di me personaggi di altissimo profilo partendo dal primo il primo presidente è stato Giordano Azzi una figura di particolare rilievo è stato presidente della navigazione Lario del presidente della navigazione aspetta che quindi insomma tante le attività che ha svolto ferrovie Nor Milano ma potrei sbagliarmi ma dovrebbe essere questa è stato impegnato moltissimo nella vita pubblica è stato un esperantista presidente dell'Associazione Nazionale di Esperanto presidente dell'Associazione Studi Storici sulla Liberazione pur essendo diciamo politicamente caratterizzato perché era stato consigliere socialista è stato assessore ai lavori pubblici con il sindaco Spallino era un personaggio di così alto profilo sopra le parti che era diciamo non dico accettato comunque ben voluto da tutti che poi è la cosa importante è stato il nostro primo presidente è stato presente per un anno, un anno e mezzo dopo di lui è subentrato Piero Collina Piero Collina, altro personaggio altro personaggio di grande è stato presidente per 10 anni diciamo si ricorda per i Promessi e Sposi in dialetto Promessi e Sposi che è una interpretazione mantenendo fede ai Promessi e Sposi del Manzoni lui ha dato una carattura locale diciamo così e anche adattandola agli anni 50-60 quando l'ha scritta in poesia sono sestine e decasillabi poi ha mantenuto fede con la sua interpretazione personale però senza trasgredire quel personaggio manzoniano dopo di lui c'è stato per un annetto il figlio defunto il papà il figlio di Collina l'ha fatto per un anno e mezzo poi per un tre anni l'ha fatto un altro personaggio della città che era il direttore era appena uscito dalla provincia il Gianni De Simoni è stato un personaggio direttore storico del quotidiano la provincia di Como l'ha fatto per un tre anni dopo di lui è subentrato quello che è stato il presidente più longevo Pierceso dei Bordoli che ha iniziato tutti i lavori di restauro che abbiamo citato poco fa è stato presidente per 27 anni ha fatto tantissime cose il discorso il gemellaggio con la città di Tocamaci come è gemellata con Tocamaci noi grazie a lui siamo entrati in aiuto per dare magari un supporto al comune e insieme al comune gestiamo il gemellaggio con la città giapponese e tantissime altre cose e tantissime altre cose tra l'altro davvero 50 anni sono un lasso di tempo davvero significativo siamo quasi in battuta conclusiva ai saluti ma vorrei sapere da te in questi 50 anni qual è stato lo spirito con il quale è iniziata questa associazione come si è evoluto e soprattutto quali sono i progetti le visioni si può anche dire dell'associazione da qui in poi lo spirito che è un po' quello che è lo scopo sociale è quello di salvaguardare nei limiti del possibile e trasmettere alle generazioni successive quelli che sono i valori della nostra tradizione valori, le caratteristiche la cultura del territorio partendo dal dialetto ma è una parte è una parte il dialetto non è la sola un aspetto la storia la storia del territorio la geografia il nostro paesaggio l'architettura irrazionalistica noi siamo una città ricca di opere razionalistiche per cui la salvaguardia lo facciamo intervenendo intervenendo e mangiare e bere perché no perché no i dolci i vini del territorio per cui nel limite del possibile organizzando corsi conferenze insomma dandoci da fare facciamo tutte queste cose il futuro vabbè al di là dei festeggiamenti dei festeggiamenti per i 50 anni che invito tutti il 19 di luglio a Villa Olmo nell'ambito del salone Villa Olmo ci sarà una serata curata da Andrea Vitali con dei musicisti intitolata Grand Tour del Lario si inserisce nel festival dei laghi dove ci saranno leggende legate ai paesini del lago con musiche per cui siete tutti è aperta alla popolazione è uno degli appuntamenti per festeggiare i nostri 50 anni e poi insomma continuerete sempre ad essere questo punto di riferimento importantissimo c'è una necessità di acquisire soprattutto tutte le associazioni dicono questo i giovani i giovani per dare un futuro più giovani ci sono più soci ci sono più cose si possono fare si possono fare bene con questo appello e con l'invito conclusivo io saluto e ringrazio Adriano Giudici per essere stato qui e averci raccontato di questi straordinari 50 anni la famiglia Comasca grazie grazie a Espansione TV grazie anche a voi rimanete lì tra pochissimo è davvero un'altra storia ma siamo sempre ad angoli grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.